Che fai? Vieni a letto? Madonna mia, che? So io. Vieni a letto? Con te? No, no, guarda, madonna, no, no. Me vedo il bobbone e... una decina d'ore e poi vengo. Ti aspetto alzato. No, dove vai? No, già stai così. Dove addormentati, no? Ti lascio la luce accesa. No, tanto te trovo. Non ti preoccupare.